18 città italiane verrà introdotta per la prima volta e utilizzata la pistola ad impulsi elettrici nei servizi di controllo del territorio. Gli agenti della polizia a cui viene consegnato il teaser conseguono l'abilitazione all'uso di questa arma al termine di un corso di formazione svolto da istruttori specializzati. L'utilizzazione dell'arma a impulsi elettrici da parte degli operatori della Polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza costituisce un passo importante per ridurre i rischi per l'incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio, ha dichiarato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.